Che si fa? Si dorme qui? Non si vive più? Se lavora e basta? Se sta in fabbrica? Se deve fare più di così? Non si sa. Era tanta l'esasperazione e lo sconforto dei titolari dell'azienda Joker di Tegueleto dopo il furto subito alcuni giorni fa. E questa notte, un'altra amara sorpresa, i ladri hanno nuovamente colpito la ditta di Preziosi. I professionisti, in tre minuti entrano, paura perché se te li trovi lì, che si deve fare? È veramente un dramma. Identico il modus operandi anche in questo caso, infatti la banda Volto Travisato è entrata da una porta sul retro sfondata con un piccone. Lo scorso lunedì i banditi erano riusciti a fare in man bassa di quello che potevano portare via velocemente rocchetti di vari metalli usati nelle lavorazioni, ottone ed argento, per un valore di circa 10.000 euro. Questa volta è stato fortunatamente ben più misero il bottino. I malviventi sono infatti scappati con alcuni grammi di argento. Un colpo a poche ore da quello tentato alla vicina New Chance di Tegueleto, impresa tra l'altro già colpita lo scorso luglio. In questo caso a mettere in fuga i malviventi era stato il titolare a colpi di clacson. Sugli episodi sono in corso accurate indagini da parte dei militari dell'arma e proprio nelle ultime ore il prefetto di Arezzo ha annunciato il rafforzamento dei controlli attraverso un aumento delle pattuglie. Abbiamo rafforzato il coordinamento, quindi ci saranno delle pattuglie sia della Polizia di Stato che dei carabinieri che si muoveranno in modo coordinato nei diversi siti produttivi. Abbiamo intenzione di rafforzare il coinvolgimento della vigilanza privata e poi non dimentichiamo che ci sono in corso anche le attività investigative sui furti e le rapine già perperrate dai quali si attendono anche dei risultati positivi e siamo anche confidenti sul fatto che alcuni responsabili vengono già attenzionati.